Buongiorno, ciao dimmi tutto. Allora io vorrei fare un tatuaggio piccolo, mi puoi fare un preventivo? Sì certo, cosa volevi fare? Allora, una stellina ma proprio piccola piccola così eh, ma sono indecisa sul posto. Se vuoi posso darti una mano a scegliere che posti avevi in mente? E allora, nella clavicola qui o nella craviglia o nella... dove scusa? Eh, nella patata... Nella patata. Shhh, ma sei matta? Tranquilla, tranquilla, tanto siamo solo io e te, adesso in studio non c'è nessuno. Ok, ma... Dillo più piano. Nella patata. Shhh. Hai ragione, hai ragione, parlo più piano, così non ci sentono neanche i fantasmi.